In quest'ultima ora andiamo a fare invece altre cose, prima cosa, ricordate il numero complesso coseno alfa più di seno di alfa, questo numero complesso è un numero complesso di modulo unitario e se vi ricordate, quando vado a fare questo per coseno di alfa più beta più di volte seno di alfa più beta, questo fatto unito ad altre considerazioni fa sì che questo numero qui si possa scrivere anche in un altro modo, per definizione lo si pone uguale a e elevato alla i per alfa, cioè per quale motivo? Mi viene tutto perché le cose funzionano bene, perché quando io faccio e elevato alla i per alfa per e elevato alla i beta, mi viene e elevato alla i per alfa più beta per le proprietà delle potenze, i alfa più i beta per i per alfa, quindi la definizione è coerente con le proprietà di questi numeri, però uno potrebbe dire ma andava bene pure se ci mettevi 2 elevato alla i alfa, no perché la definizione deve essere anche coerente, l'anno prossimo faremo la, come quest'anno facciamo le formule di telo, l'anno prossimo facciamo le serie di telo, allora l'esponenziale si definisce mediante una serie di telo su tutto il campo complesso, se andiamo a fare la serie dell'esponenziale e alla fine viene esattamente questo esempio, il tutto si ottiene, confrontando le serie che definiscono l'esponenziale, se andiamo così, cioè la dimensione è coerente, quindi otteniamo questa appreviazione qua, invece di scrivere rho per cosen alfa, un numero in forma anticonomenica più i sen alfa, lo scriviamo rho per i alla i alfa, in modo diverso di scrivere. in particolare però, se io prendo e elevato alla i pi greco, quanto mi viene? Mi viene coseno di pi greco che fa meno 1 più i seno di pi greco che fa 0, quindi si ottiene questa equazione qua, questa equazione qua è ritenuta più o meno universalmente, se non la più bella, una delle 10 più belle equazioni della matematica, perché nella stessa equazione sono contemporaneamente presenti, il numero di nefero è il numero di nefero E che abbiamo definito oggi, pi greco che è il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del piano e l'unità immaginaria E e il risultato era il pi greco che è un numero reale, negativo, meno. Ok? Ok? Bene, allora, questa se vi ricordate, questa moltiplicazione serviva, serve anche a, soprattutto per chi non ha fatto bene la diconometrica alle superiori, a ricordarsi le formule di addizione di seno e coseno, cioè io sviluppo qui la moltiplicazione, la parte reale di sarà coseno alfa coseno beta meno sen alfa sen beta e questo deve essere coseno di alfa più beta e quindi la forma di addizione del coseno coseno di alfa più beta non è altro che coseno alfa coseno beta meno sen alfa sen beta, invece la parte, il coefficiente della parte immaginaria è coseno alfa sen beta più sen alfa coseno beta che deve essere seno di alfa più beta, quindi confrontando parte reale e parte immaginaria si ottengono le forme di addizione di sen coseno, in realtà è il contrario, utilizzando le forme di addizione di seno e coseno si dimostra questa, però siccome è più facile ricordare che gli argomenti si sommano, noi tramite questa uguaglianza ci ricordiamo delle forme di addizione di sen coseno. Allora, l'altra volta abbiamo fatto qualche grafico, in particolare abbiamo fatto il grafico della funzione ax più b di una retta e abbiamo fatto il grafico della funzione x4 non abbiamo fatto il grafico di una parabola generica, però lo possiamo fare adesso questo, poi invece di fare il grafico di un polinomio di grado 3, quello lo faremo magari più in là dopo che abbiamo fatto le derivate, andiamo a vedere, allora cominciamo a fare il grafico di una parabola generica, cioè y uguale ax quadro più bx più c. Allora come si fa questo grafico? è il solito discorso, questo si può scrivere come a per x più b su 2a, a quadrato, qua viene ax quadro, poi viene xb fratto a per a, viene bx, e poi qua viene più c meno b quadro fratto 4a, e qua ho introdotto un quadrato, quindi quando vado a fare il quadrato ci sono termine b quadro su 4 quadro per a che fa b quadro su 4a che non c'è, quindi lo vedo. Allora che significa questo? Significa che il mio grafico è una parabola, io qua sto supponendo a maggiore di 0, che avrà vertice, cioè il punto più basso della parabola, sarà quello di coordinate, la x deve essere meno b su 2a, quindi se a era positivo b era negativo perché meno b su 2a, vedete qua che è positivo, e qua invece il valore della y deve essere c meno b quadro su 4a. Non è importante, ma non sono importanti questi numeri, l'importante è saper essere ricavati, perché sennò se io me li devo ricordare ogni volta a memoria uscirà il razzo. Per quale motivo la parabola deve avere un grafico fatto così? Perché lo vedete, allora supponete solo che a sia positivo, allora lo vedete che questo è un quadrato, quindi un quadrato è positivo, moltiplicato per a è positivo, aggiunto a questo termine. quanto è che questo termine è il meno possibile? Quando questo quadrato fa 0, cioè quanto è che questo quadrato fa 0? Quando questo fa 0, ma quando questo fa 0 è quando x è uguale a meno b di 4a, quindi qua c'è il valore più basso, ma se questo fa 0 il valore viene questo, quindi per questa x bisogna avere questo valore della x. grafico. Poi la funzione è come fa? È una parabola, un grafico, qui ha il punto più basso che corrisponde al vertice e il grafico della parabola è fatto come prima, se a è maggiore di 0 la long gravità è rivolta verso l'a, questo basta fare un paio di esperimenti per vedere che funziona. Se invece a fosse migliore di 0 poi se a è più piccolo, per esempio se a è un mezzo, allora la parabola è più larga e più piatta, se invece a è 10 allora la parabola è più stretta e più alta. Qua sto ripetendo più o meno malamente quello che dovreste già sapere dalle superiori, ma non è importante, si può essere anche importante ricordarselo un po' ma fino a un certo punto l'importante è saperselo ricavare, se ti serve te lo ricavi 2 minuti. Comunque il polinomio generico di grado 2 ha per grafico una parabola, con asse verticale, l'asse della parabola è simmetica rispetto a questo. va bene? Ora, questa funzione, quando è che è invertibile? Allora, innanzitutto per poterla invertire la y deve essere maggiore di questo valore qua se no, vedete, se y è meno di questo, la x non la trova non solo, ma è invertibile quando la considero da meno b su 2a in poi o da meno infinito a meno b su 2a cioè, chi è l'inversa di questa funzione? x è uguale a a quindi viene y meno b su 2a più o meno la radice di y la radice di y su 2a meno qua viene qua viene qua viene 4a qua viene meno 4ac vediamo un po' la radice di y su 2a dovrebbe essere così y su a più b quadro meno 4ac fratto 4a quadro che ho diviso per a allora vedete che se y se y non è almeno questa roba qui se y non è almeno questo qua non funziona perché qua è radicato per la negativa e poi più e meno a cosa corrispondono? corrispondono uno è l'immersa di questa e l'altro è l'immersa dell'altro ok? va bene questa è la la funzione immersa sarà quella che una volta fatto questo scegliete una delle due determinazioni quindi per esempio se scegliamo quella col più sarà l'immersa di questa e avrebbe il grafico un grafico fatto così o meno e si ottiene algebraicamente scambiando la y con la y ok? ma non è importantissimo l'importante è capire fare gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto? quando abbiamo invertito la funzione x quadro non proprio la funzione x quadro che non era invertibile ma x quadro sul positivo oppure x quadro sul positivo adesso andiamo invece a vedere un'altra funzione elementare che è la funzione seno per fare il grafico della funzione seno come dobbiamo fare? se vi ricordate com'era definito il seno? allora io prendo la circonferenza unitaria prendo la circonferenza unitaria allora la lunghezza è alfa quindi questo è P questo è H la lunghezza dell'archetto di circonferenza la chiamo alfa questo punto 1,0 lo chiamo Q allora PQ però quello lungo la circonferenza è alfa e PH il segmento è il seno di alfa allora se vogliamo alfa naturalmente è misurato in gradienti cioè che significa non è misurato in gradi l'unità di misura è un numero puro ma tutta la circonferenza corrisponde al 2PG ok? quindi qua mettiamo i gradienti qua mettiamo i gradi qua mettiamo il seno il valore del seno allora cominciamo a 0 quando siamo a 0 noi sappiamo che il valore del seno vale 0 i gradi sono a 0 e il seno vale 0 poi supponiamo di arrivare a 30 gradi quanto vale 30 gradi in gradienti? pi greco sesti perché pi greco sono 180 gradi a pi greco sesti cioè a 30 gradi facciamo un inverso quanto vale il valore del seno? beh 30 gradi è la metà di 60 questo è un triangolo equilatero 1,1,1 la metà di 1 vale 1 avete capito i ragionamenti? 30 e 30 fa 60 questo triangolo equilatero questo lato vale 1 perché altrimenti c'è il confidenziale questo lato vale 1 questo lato vale 1 questo lato vale 1 la metà di 1 vale 1 andiamo a 45 gradi a 45 gradi abbiamo che siamo a pi greco quarti e il valore del seno viene radica 2 su 2 per cui a 45 gradi siamo più o meno qua allora quando andate a calcolare il valore del seno è uguale al valore del coseno cioè i due gradi sono uguali allora chiamata lunghezza il cateto L L è uguale più L è uguale deve fare 1 quindi 2 L è uguale deve fare 1 L è uguale deve fare 1 L deve fare 1 su radica 2 che è razionalizzato per radica 2 su 2 poi poi quando arriviamo a pi greco terzo cioè a 60 gradi che succede? 60 gradi allora è questo che è 1 mezzo e quest'altro per il terreno di B la torna viene radica 3 su 2 se andiamo a vedere il coseno cioè il coseno di alfa che è OH che succede? che a 0 il coseno faceva 1 qui il coseno faceva radica 3 mezzi qua il coseno fa radica 2 mezzi e qua fa 1 mezzo cioè succede che a 60 gradi seno e coseno rispetto al 30 si sono scatti quando arriviamo a pi greco mezzi cioè a 90 gradi il valore del seno arriva a 1 e il valore del coseno diventa a 0 perchè a 90 gradi stiamo qui in verticale ok allora cosa significa questo? significa che se noi cerchiamo di fare il grafico della funzione seno tra 0 e pi greco mezzi qua abbiamo 0 qua abbiamo pi greco mezzi qua abbiamo 1 allora la funzione seno tra 0 e pi greco mezzi fa più o meno qua così cosa succede tra pi greco mezzi e pi greco? ebbè per questione di simmetria il seno scende simmetricamente da 1 fino a 0 non me lo fate fare perchè questo lo avete fatto 50.000 volte superiore però anche per chi non l'ha fatto capisce può capire può intuire che il grafico della funzione non fa altro che scendere in maniera simmetrica da 1 non ci riuscirò mai spostiamo un po' lo su pi greco mezzi sembra più simmetrico da 0 a pi greco mezzi sale da 0 da pi greco mezzi a pi greco scende cosa succede? oltre pi greco succede la stessa cosa ma con dei valori del seno che sono negativi negativi perchè pi h vista sotto l'asse della scissima quindi cosa succede? che avremo qualcosa che più o meno fa così e qua siamo a 2 pi greco poi cosa succede quando arriviamo a 2 pi greco? succede che la cosa ricomincia perchè ogni volta che aumentate l'argomento della funzione di 2 e pi greco succede che sulla circonvarianza unitaria avete fatto un giro completo e quindi i valori partono da capo quindi il grafico della funzione seno non è altro che si chiama pianto seno solide ed è una specie di onda che va su e giù naturalmente questa cosa continua il seno è definito per qualunque valore di alfa quindi la funzione seno è una funzione definita su tutto r il dominio è tutto r qual è invece il codominio? il codominio lo possiamo chiamare anche r però l'immagine dei valori della funzione seno i valori della funzione seno sono solo tra meno 1 e 1 cioè non vanno per quale motivo? per la definizione della funzione seno la funzione seno è uno di questi segmenti uno di questi cateti quindi la lunghezza del cateti è sempre minore della lunghezza dell'ipotenusa quindi è sempre minore di 1 minore uguale di 1 e poi può andare da meno 1 quando siamo a 270 gradi a 1 quando siamo a 90 gradi e poi è periodica periodica che significa? significa che seno di x più 2pi greco è uguale a seno di x una cosa qui l'argomento l'abbiamo chiamato alfa per ricordare che si tratta di un angolo però quando la studiamo come funzione l'argomento del seno lo chiamiamo sempre x perchè la variabile è indipendente tendiamo a chiamarla cerchiamo di chiamarla per quanto possibile x quindi il grafico della funzione seno è fatto così è una sinosolica che sta descendo fate attenzione perchè lo vedete che questa pendenza non è verticale? lo vedete bene? per quanto abbia fatto un orbito di segno questo si vede abbastanza bene così anche questa pendenza qui diciamo il coefficiente angolare della retta tangente ci avrà a che fare con la derivata però questa retta tangente nei punti di intersezione con l'asse delle ascisse non è verticale quelle pendenze si potrebbe vedere che sono a 45 gradi una sale a 45 gradi l'altra scende a 45 gradi allora cosa voglio dire? voglio dire che la funzione seno è periodica dove si annulla? si annulla in zero in pi greco in meno pi greco in meno 2 pi greco poi questo fatto che la pendenza non sia verticale è molto importante per prevenire un travaso di B del professore perchè quando richiede quando arriviamo a un esame che sta nell'intorno destro del 18 quindi 18 più y allora per cercare o sta dell'intorno sinistro quindi l'esame dovrebbe essere tradotto in una bocciatura almeno il professore magari vi chiede mi fai il grafico della funzione seno? ecco se mi fate questo non va bene io poi cosa vi chiedo questo potrebbe essere una specie di grafico del seno di 3x seno del 100 compreso però dico questo l'ha fatto non si capisce se questa pendenza è verticale o no dico ma qua mi fai la tangente allora qua non me la fai a verticale ma vuoi che? se ne va a casa perchè non può mai essere la tangente a un grafico anche se fosse seno di 2x seno di 3x seno di 4x la tangente nei punti di intersezione con l'asse della cisse non può mai essere verticale questa pendenza è a 45 gradi quando fai seno di 2x si può ingegnare un po' di più cioè per capirci qua la derivata farà 1 e qua la derivata farà meno 1 se faccio seno di 2x la derivata in quei punti farà 2 e meno 2 se faccio seno di x farà 3 e meno 3 quindi ma la tangente verticale significa che la derivata non c'è il che non è compatibile con la funzione seno di k di quello che volete voi x anche seno di 100x ha una tangente quasi verticale ma non verticale allora a quel punto il professore ha un travaso di bile avendo avuto un travaso di bile si manda a casa non ne vuole un altro chiaro? quindi questo è un modo sia pure sintetico di ricapitolare il grafico della funzione seno altre cose le vedremo quando le vedremo quando avremo fatto la derivata le richiameremo di nuovo però avendo ancora una ventina di minuti si abbiamo 25 minuti cosa possiamo ancora dire? beh possiamo dire questa funzione si può invertire? allora la risposta è così com'è no perché no? perché per esempio questo arciere e questo arciere sparano sullo stesso bersaglio cioè come vedete che ne so per esempio meno 45 gradi e 225 gradi hanno lo stesso segno oppure questo arciere e questo arciere sparano entrambi sullo stesso bersaglio per esempio 45 gradi e 135 gradi hanno lo stesso segno allora se la funzione non è iniettiva non si può invertire allora per renderla allora per renderla suriettiva che devo fare? vabbè quella è facile invece di considerare il codominio tutto ar considero il codominio meno 1 1 ma per renderla iniettiva cosa devo fare? ecco questo lo impareremo più in là lo dimostreremo più in là però lo possiamo capire molto questa è una funzione che sale e scende iniettiva quando è che una funzione è iniettiva fino a che sale è iniettiva oppure quando scende iniettiva se sale e scende non è iniettiva per il semplice motivo prendete una funzione che per esempio nel ritorno del punto di massimo qua se sali da 1 e scende dall'altra parte deve passare 2 volte per 0,99 quindi automaticamente non è iniettiva allora qual è un intervallo sul quale la funzione seno è sicuramente iniettiva? allora noi l'idea è partiamo da 0 in 0 che sta pagando la funzione sta salendo e allora ci allarghiamo fino a che la funzione continua a salire cioè a salire verso destra e a scendere verso allora a sinistra dove ci dobbiamo fermare? a meno pi greco mezzi a destra dove ci dobbiamo fermare? a pi greco mezzi appena oltrepassiamo pi greco mezzi a destra e meno pi greco mezzi a sinistra la funzione non è più iniettiva perchè a sinistra comincia a risalire e a destra comincia a riscire quindi allora io qua adesso vi rifaccio uno specchietto con a sinistra la funzione seno ma soltanto tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi più o meno fa così pi greco mezzi pi greco mezzi fa uno a meno pi greco mezzi fa meno uno questa è la funzione è y uguale seno di x x appartenente a meno pi greco mezzi pi greco mezzi e sotto vi faccio il grafio della funzione immersa come sarà fatta la funzione immersa? la funzione immersa innanzitutto scambia dominio e codominio quindi qua sarà definita da meno uno fino a uno e poi sarà fatta così a meno uno deve valere meno pi greco mezzi e a uno deve valere pi greco mezzi questa funzione prende il nome di arcoseno in italiano scrivono arcoseno in italiano scrivono arcsin però molto più spesso in inglese si trova a scrivere arcsin se vi ricordate la regola la regola era io prendo questo poi ho inchiostrato lo giro dall'altra parte e lo guardo in trasparenza cambiando la x e la y se lo giro dall'altra parte e lo guardo in trasparenza quello che era orizzontale diventa verticale quindi i crampi li hai da più ok? qua l'ho fatto un po' troppo facciamolo un po' più duro è un po' più realistico ok quindi questa si che c'è la tangente verticale infatti vedremo che la funzione perché queste tangenti qua al grafico della funzione saranno orizzontali e quando andate a girare i grafico della funzione per ottenere il grafico della funzione in mezzo la tangente in questi punti sarà verticale che significa infatti quando andremo a fare la derivata della funzione a coseno sarà uno fratto la radice di uno meno x quadro beh, nel punto uno nel punto meno uno la derivata da c però questo noi per ora la derivata sappiamo anche il modulo quello che sappiamo è che quello che era orizzontale qua sulla funzione in mezzo deve diventare il modulo quindi qua il dominio è meno pi greco mezzo e pi greco mezzo il codominio è meno uno uno qua il dominio è meno uno uno e il codominio è meno pi greco mezzo e pi greco mezzo e quindi abbiamo ripassato il grafico della funzione seno adesso la seconda cosa che voglio fare se finiamo prima vi abbono il resto nei minuti che rimangono è il grafico della funzione coseno come si farà il grafico della funzione coseno? il grafico della funzione coseno il grafico della funzione seno farà cosi ma qua siamo a zero qua siamo a pic greco mezzo qua siamo a pic greco vabbè non è fatto proprio bene insomma si capisce tre di greco mezzo e poi due di greco mezzo quindi non è altro che la stessa sinusoidale di prima solo che è shiftata verso sinistra cioè mentre la funzione seno raggiunge il massimo nel punto pi greco mezzo in tutti i punti diciamo in tutti i punti pi greco mezzo più 2k a pi greco pi greco mezzo più 2 pi greco pi greco mezzo più 4 pi greco qua la funzione coseno è massima quando alfa è uguale a 0 quando alfa è uguale a 2 pi greco quando alfa è uguale a 4 pi greco cioè parte da 1 scende poi risale poi scende poi risale per il resto è esattamente come quella è la funzione seno ma anche qui prendere un pezzo della funzione il problema è che questo pezzo della funzione non può contenere 0 su intero perchè a 0 c'è proprio il massimo e quindi la funzione là vicino non è invertibile perchè qua prima sale e poi scena allora per avere una funzione invertibile o vado da 0 verso destra o vado da 0 verso sinistra allora la cosa è andare da 0 verso destra cioè questo lo cancello questo lo cancello e mi tengo soltanto il gradito della funzione coseno soltanto tra 0 e pi greco quindi io prendo y uguale coseno di x per x che va da 0 fino a pi greco che significa? significa che quando vado a fare il grafico della funzione coseno altocoseno fa così più o meno fa così questo è il di greco mezzo questa è la funzione y uguale arco coseno di x vedete è sempre definita tra meno 1 e 1 perchè la funzione arco coseno come dominio ha sempre il codominio del coseno il codominio del coseno ha lo stesso codominio del senso che fa meno 1 1 l'immagine soltanto che stavolta che succede che ecco un'altra cosa possiamo osservare la funzione seno saliva la funzione arco seno sale pure lei la funzione coseno dove la voglio invertire cioè tra 0 e pi greco cosa fa? scende la funzione arco coseno scende pure lei cioè questa sarà una regola generale vediamo che l'immerso è una funzione crescente e crescente l'immerso è una funzione decrescente e decrescente però queste due figure se le guardate sono simmetiche ma sono simmetiche rispetto a chi? rispetto a quest'asse che vuol dire? che vuol dire? vuol dire che l'arco coseno di x non è altro questo è pi greco 4 che è pi greco mezzi meno l'arco coseno di x e questo è un fatto banale in realtà allora vedete? a 0 allora andiamo a vedere a 1 l'arco coseno fa fa 0 l'arco coseno fa pi greco mezzi e la somma fa pi greco mezzi a radical 2 su 2 fanno tutte e due pi greco quarti la somma fa pi greco mezzi a 0 questo fa 0 questo fa pi greco mezzi e la somma fa pi greco mezzi a meno 1 questo fa meno pi greco mezzi questo fa più pi greco la somma fa sempre più pi greco mezzi in realtà questa relazione in generale è facile dimostrarla usando le proprietà degli archi associati non è pi greco cioè voi sapete che coseno di alfa il seno di pi greco mezzi meno alfa sono uguali da qui quindi in realtà quello che abbiamo abbiamo capito facciamo un attimo il riassumo cosa abbiamo capito? abbiamo capito che il grafico del seno è una sinusoide questa sinusoide da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi sale poi scende per un altro intervallo lungo pi greco e poi si ripete per un altro intervallo la funzione il grafico invece della funzione coseno è pure l'unica sinusoide la stessa di prima soltanto spostata verso sinistra di pi greco mezzi quindi da 0 a pi greco scende da pi greco a 2 pi greco risale e poi si ripete per un altro intervallo ovviamente scende e sale le valori meno 1 e meno poi di altro abbiamo capito abbiamo capito che queste funzioni il seno abbiamo deciso di invertirlo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi il coseno abbiamo deciso di invertirlo tra 0 e pi greco le funzioni immerse sono definite tra meno 1 e 1 ma in realtà l'arco coseno non serve perché l'arco coseno è pi greco mezzi meno l'arco coseno quindi non è che è una funzione nuova è l'opposta di quella di prima più una costante quindi seno va bene coseno va bene l'arco coseno va bene l'arco coseno si qualche volta potete anche usare l'arco coseno ma ricordatevi che è pi greco mezzi ok poi un'altra cosa abbiamo detto importante da ricordare nei punti di massimo le tangenti saranno orizzontali che significa che in questi punti le tangenti sono verticali immersi una funzione crescente e crescente immersi una funzione decrescente infine per la funzione seno il coseno queste tangenti qui hanno tendenza a 45 gradi quindi non mi fate mai un grafico con le tangenti verticali non è possibile ok ovviamente io qua lo specchietto l'ho fatto solo nel primo quadrante perchè non è che posso vedere tutto il corso a fare tutti i dipassi voi ve lo fate anche sul secondo quadrante dico solo questo e poi ce ne andiamo quali sono le regole diciamo le formule che riguardano gli archi associati allora quando io prendo questo questo qua è un rettangolo che significa questo qua significa che seno di alfa questo è alfa quest'angolo qua che è? pi greco meno a quindi abbiamo seno di alfa uguale a seno di pi greco meno a che è uguale a meno seno di pi greco più alfa è uguale a meno seno di meno alfa queste sono le regole che riguardano il seno perchè? questo qua è alfa e ha questo seno questo qua è pi greco meno alfa e ha lo stesso seno questo qua è pi greco più alfa vedete alfa più pi greco che ha seno opposto questo qua è meno alfa perchè è alfa andando in via oppure meno alfa più 2 pi greco meno alfa che ha seno opposto quando riguarda il coseno invece avremo che coseno di alfa è uguale a meno coseno di pi greco meno alfa uguale a meno coseno di pi greco più alfa è uguale a coseno di meno alfa queste sono le cosiddette uguaglianze degli archi associati gli archi associati sono alfa pi greco meno alfa pi greco più alfa e meno alfa che sono i quattro A angoli corrispondenti a questi punti giocati in contraenergia ok? queste sono delle banalità però servono a far sì cioè adesso voi qualunque sia il valore di alfa il valore ovviamente vi dovete ricordare di impostare la calcolatrice radianti se no le cose non vi dormono perchè in analisi noi impostiamo le cose radianti le impostate in gravi fate un macello però una volta che l'avete impostato i radianti qualunque sia il valore di alfa il valore del seno basta che previate un tasto ci mettete che ne so 5.12 il seno di 5.12 è uguale a e la calcolatrice è quella invece quando stavo io alle superiori non c'era la calcolatrice quindi dovevamo usare delle tavole e allora le tavole che dovevano riportare la quinta e la sesta decimale tavole con le quali sono andati avanti i generazioni di ingegneri fino agli anni 70 che non c'erano la calcolatrice non è che le facevano da 0 gradi fino a 360 gradi no! le facevano da 0 gradi fino a 45 gradi per il seno e per il coseno perchè poi da 45 a 90 gradi si usava seno di pi greco mezzi meno alfa uguale coseno di alfa quindi se dovevi fare il seno di 60 facevi il coseno di 30 se dovevi fare il seno di 30 facevi il coseno di 60 e poi da 90 gradi in poi si usavano le formule degli antiassociali quindi in realtà tu cosa devi conoscere? devi conoscere per conoscere questa sinusoide ti basta conoscere uno questo pezzetto qua che questo è ribaltato diciamo è ribaltato rispetto a quest'asse diciamo a questo punto non a quest'asse è girato quello del poi gli altri sono è quella del seno e del trascanto quindi in realtà ti basta conoscere solo il grafico di una di quelle due funzioni per pi greco mezzi cioè per 90 gradi oppure di tutte e due le funzioni ma solo per 45 gradi e infatti sulle tavole ci stavano i valori di seno e coseno da 0 fino a 45 ovviamente quelli erano in gradi perchè stavamo alle superiori non c'era non ci avevano definito i radianzi però per il resto si tratta di questo quindi voi io vi ho dato l'arraccio vi ho sottolineato le cose fondamentali i trattini li riempite voi cioè il resto lo fate da su insomma se uno sta all'università che cosa dovrà fare no? ok